e allora benvenuto intanto a Moshin Marwa al Baff Buonasera, benvenuto e salutiamo anche l'autore del libro ne parleremo un po' più tardi dedicato a Bombolo che ha questo titolo curioso e poi cominciati a fa l'attore non so se l'ho detto bene Ezio detto benissimo Ezio Cardarelli e poi ne parleremo e poi salutiamo anche Francesca Romana Petrecca ci hanno detto, è giusto? meno male, no? perché con i nomi siamo con le pene e tutto il resto che ci aiuterà per rendere più fluido la nostra conversazione e c'è anche la sceneggiatrice del film che si chiama The President che è anche la moglie di Mark Malbaff che come si chiama però la signora? il film, sorry Marzia Mischini così non abbiamo sentito nulla adesso sono Marzia Mischini benvenuta anche alla signora naturalmente e con noi abbiamo questi ospiti così graditi perché proprio questa sera l'ultimo film di Mark Malbaff che si chiama The President apre la diciottesima edizione del terzo millennio Film Fest che si svolge a Roma alla Sala Trevi l'ingresso è gratuito diretto da Marina Sanna diretto da Marina Sanna si può andare senza biglietto naturalmente e poi quando i posti sono esauriti naturalmente si resta fuori e questa sera tra l'altro ci sarà Alberto Barbera il direttore del Festival di Venezia che presenta il film The President e il tema di quest'anno il tema scelto dal terzo millennio quest'anno è Frontiere cercando un'immagine tra due mondi giustamente Steve diceva che è diretto da Marina Sanna e ricordiamo anche che collabora la direzione Gianluca Arnone The President apre la rassegna poi ci sono tanti film domani avremo dovremo avere e siamo sicuri di averlo però non lo anticipiamo proprio perché nel momento in cui anticipiamo poi qualcosa magari va in un'altra direzione un'altra regista che accompagna un suo film ma ci sono film di oggi ma ci sono anche film del passato ci sarà la possibilità di rivedere un magnifico film restaurato di Marco Ferreri che è l'udienza così come c'è la giornata balorda di Mauro Bolognini poi ci sono incontri c'è un documentario che ci incuriosisce molto che vede poi coinvolto anche un nostro amico che è Dario Viganò e che è un documentario sull'archivio segreto Vaticano un viaggio nella storia diretto da Lucas Duran ma veniamo a The President oggi abbiamo letto molte interviste il film è stato presentato è stato presentato a Venezia ed è la storia però non vi racconteremo naturalmente tutta la storia è la storia di un nonno dittatore e di un bambino e giustamente Mark Balbaff insisteva dicendo è una favola però è una favola piena di riferimenti alla realtà piena di riferimenti al mondo complesso un mondo in guerra in realtà c'è una guerra che non ha più la forma della prima e della seconda guerra mondiale e quindi il rapporto proprio fra questa favola Mark Balbaff e la realtà la storia appunto volevamo chiederti di approfondire un po' questa riflessione e cerco di sommarizzare tante rivoluzioni in una storia che deve fare da esempio You can see in the film President many rivoluzioni like Libya Egypt Syria Tunis Iran Iran before revolution Iran five years ago Ukraine and I don't know many other revolution and dictatorship that happened e nel film The President si possono avere si possono vedere riferimenti a tanti paesi come la Libia l'Egitto la Siria la Siria di cinque anni fa la Siria di adesso e l'Ucraina insomma tanti paesi tante sfaccettature è lo stesso problema che si ripete ogni volta il film è sulla dittatura ma anche sulla rivoluzione riguarda la violenza riguarda la violenza in generale sia della dittatura che della rivoluzione e il risultato di entrambe da come possiamo vedere da questo film è tragico l'Ucraina No, 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 no. E questo è appunto un brano di The President, il film di Moshe Marbalbaft, del quale stiamo parlando oggi, Hollywood Party, che sarà presentato questa sera a inaugurare il terzo millennio film festival, dopodiché uscirà nelle sale. Io, quando abbiamo presentato i nostri ospiti, ovviamente abbiamo appreso che la moglie di Moshe Marbalbaft è anche la sceneggiatrice del film. La famiglia Marbalbaft è una famiglia molto cinematografica, perché c'è anche Samir, insomma ci sono varie persone della famiglia che si occupano di cinema. Ci piacerebbe sapere com'è il vostro menage cinematografico familiare. Sì, in realtà Marzie, mia moglie, è un film director, ha due film nel Festival di Venezia, Il giorno che diventai una donna e Cani Randaggi. E in molti film lavoriamo insieme, per esempio, nel mio ultimo film, The President, si è stato co-escribirta, e per il film che già faccio nel Reino Unico, si è anche co-escribirta. E lavoriamo insieme in varie occasioni, abbiamo collaborato in The President e adesso stiamo collaborando insieme anche per il nostro prossimo corto in Inghilterra. E anche, a volte, quando la mia figlia fa film, è l'assistente, a volte la mia figlia è l'assistente, è il lavoro che cambiamo e lavoriamo insieme. Sì, spesso ci scambiamo di ruoli, qualche volta è mia moglie che dirige, è mia figlia che fa l'assistente, qualche volta è il contrario. E questo vuole coinvolgere anche la signora. Questo significa una grande armonia, però, no, perché spesso quando si scrive un copione ci si confronta, si discute, a volte anche si litiga, no, per mettere a fuoco una storia, per descrivere dei personaggi. Che cosa accade nella loro dinamica di lavoro? What happens in your work dinamica? Actually, he's my teacher, he was learning cinema, so we learn cinema from him, so it's a great working, it's a good job when we are working together. Sometimes we argue about some very special issue, but at least the one who is the main one decides about whatever we talk. Lavoriamo spesso insieme, ma lui più che altro è il mio maestro, mi ha insegnato molte cose sul cinema, certo qualche volta si litiga, ma dipendentemente dalla situazione, chi comanda decide le cose più importanti. Io vorrei tornare al film The President. Prima Moshe Marbalbaf ci ha detto che è una favola. È una favola ambientata in un paese immaginario, proprio anche a sottolinare questo aspetto. questa favola prende l'avvio da un fatto piuttosto curioso, cioè il nonno dittatore vuole dimostrare di poter spegnere le luci in tutta la città e questo innesca quello che succede. Ma in tutta la fuga successiva in cui lui deve travestirsi e così pure il figlio, il nipote lo protegge, cioè diventa un dittatore sanguinario ma anche un nonno amorevole, perché cerca di evitare che il nipote viva tutti i problemi che ci sono e anche la crudezza. In questo ricorda un po' il figlio di Benigni in La vita è bella. In questo film il ragazzo ha tre diversi ruoli. In realtà è il nipote, ma ha più significato di questo perché è anche il futuro della nazione. E rappresenta anche le memorie, i ricordi del nonno quando era più innocente, insomma. Senza questo bambino sarebbe stato impossibile mostrare il lato umano del presidente. In realtà questa idea che il presidente dovesse avere un nipote viene da mia moglie, Marzia. Ascoltiamo un'altra scena proprio da The President. Ascoltiamo un'altra scena incredibilità. Allora, questo era un altro momento di The President, questa sera per chi fosse a Roma il festival si apre alle 20.45, quindi c'è la possibilità di vedere il film e di incontrare i nostri ospiti in questo momento. Prima Mac Malbaugh citava proprio questi due poli, la dittatura e la rivoluzione, che hanno connotazioni, se non ho capito male quello che diceva prima, violente entrambe. Lei è stato, nella sua vita, oltre che un regista molto importante, ha fatto anche un'intensa attività politica e quindi le volevo chiedere se secondo lei proprio queste due polarità, dittatura e rivoluzione, come potrebbero evolvere, se c'è una terza via fra queste due forze opposte. Quando avevo 17 anni ero prigioniero politico per più o meno cinque anni. e in quei giorni entrambi le parti, entrambi i poli hanno usato violenza. Sono stato torturato mentre ero in prigione e ancora porto i segni sul mio corpo. E nel film c'è una scena in cui il prigioniero viene torturato sulla schiena del presidente come proprio se stesse reggendo il suo peso. Questo tipo di violenza viene da entrambi i lati proprio per la natura dell'essere umano. Ovunque gli esseri umani non sono molto gentili con se stessi. A noi esseri umani serve più educazione e più cultura per diventare una specie non violenta. Ed è per questo che abbiamo solo due grandi esempi, Gandhi e Mandela. Ma ce ne servono di più. In Iran la violenza è ancora al potere. Ogni giorno si impiccano almeno una o due persone nelle prigioni. Per il nome di Dio. Come noi abbiamo un nuovo Papa, anche all'Islam e alla comunità ebrea servirebbe un nuovo leader più simile al nostro per portare la pace. Per portare il messaggio di pace e cultura nelle attività umane. E ci servono Gandhi e Mandela nei cinema anche. La cultura indiana ha bisogno di Gandhi nel cinema. di Bollywood. Mi sembra veramente una suggestione bellissima. Ringraziamo molto i nostri ospiti. Li liberiamo anche perché da qui raggiungeranno la sala Trevi. Vi ricordiamo la diciottesima edizione del terzo millennio Film Fest che comincia proprio questa sera e apre proprio con l'ultimo film di Mark Malbaffo, The President. Grazie di essere stati con noi. Adesso noi mandiamo in onda un altro frammento di un suo film in italiano che è stato molto amato in Italia, ma non solo in Italia, che viaggio a Kandar. Silenzio! Silenzio! Che cos'è un Kalashnikov? Il Kalashnikov è un'arma calda a fuoco continuo che grazie all'azione della polvere da sparo e di vari meccanismi svolge il suo lavoro automaticamente, rende vanni gli obiettivi dei malvaggi ed elimine malvaggi dalla società. Da capo! Il Kalashnikov è un'arma calda a fuoco continuo che grazie all'azione della polvere da sparo e di vari meccanismi svolge il suo lavoro automaticamente, rende vanni gli obiettivi dei malvaggi ed elimine i malvaggi dalla società, rende vanni gli obiettivi dei miscredenti e pulisce i miscredenti dando loro la morte. Riprendete! Silenzio! Silenzio! Perché tu non tinchini? Ho mal di schiena. Leggi il Santo Corano. No, no, leggi tu. Sentito? Così si legge, prova. No, no, non sei capace. Perché non sei capace?